Beh, volete conoscere chi è la ragazza di Luca? Eccola, si chiama Domenica Mancuso, detta Mimma! Bella gnocca! Volete sapere chi è la ragazza di Paolo? Eccola, si chiama Domenica Mancuso, detta Mimma! Oh, c'è un bel casino adesso! Ragazze, mi sono innamorata di un ragazzo che si chiama Luca! E com'è? E Luca è... Sì? Sì, è... Vabbè, ciao! Però mi sono innamorata anche di Paolo, e Paolo è alto, ha i capelli neri, ha gli occhi scuri, ha le spalle larghe, e soprattutto Paolo ha proprio un gran bel! Dipendesse da me, andrei a passeggio sui frati, coglierei margherite e mangerei dei gelati. Dipendesse da me, dipendesse da me, ma così non è, ma c'è qualcosa che, brucia dentro di me, io con lui parlo di un modo, per almeno treci ore, ci sbagliamo sopra i frati, non ci siamo mai toccati, se facessimo del sesso non sarebbe più lo stesso, fra noi. Mentre invece con lui provo mille emozioni, la mia vecchietà se ne va per cartoni. Sulla sessualità, sto prendendo lezioni, non mi giudipate, non parlate presto, Luca mi dà il cuore, Paolo mi dà il resto.